... Ed eccoci con l'autore di fotografia Roberto Girometti. Allora, l'altra volta, diciamo, qualche mese fa, eri protagonista nella serata della pellicola d'oro perché sei stato premiato alla carriera cinematografica come autore della fotografia. Questa sera invece sei in veste di... Beh, faccio... Ma detto Enzo, ma questo rimanga tra di noi, tanto ce lo diciamo qui. Forse darò un premio. Ah, quindi dovresti dare un premio? Un premio a uno degli attori? Non so a chi, forse a uno degli attori. A uno dei vincitori. A uno dei vincitori. E la cosa, devo dire, mi fa molto piacere perché andando un po' indietro con la memoria pensa, nel 1968 io facevo il secondo operatore di macchina, il secondo e facevamo uno dei primi serial per la televisione in Africa prodotto da Luce per la Rai ed era in tre verso l'avventura. Ero 13 puntate, per questo è stato un lavoro... Se mi permetto di dirlo, lo vorrei dire perché... Eh beh, sì, è molto importante. Una cosa... Eri uno dei pionieri, diciamo. Sì, uno dei pionieri, insomma. Dei pionieri. Giovanotto. Giovanotto, Pischello, Pischello dell'epoca. Va bene, allora questa sera si investe appunto di premiatore del premiatore. Un saluto a tutti da Roberto Girometti e dal Prato Fernandone. Ciao. 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 Grazie.